Dopo l'esito negativo della votazione sull'ordine del giorno che ribadiva gli impegni presi dalle forze politiche in merito a una nuova legge sull'attività venatoria, il presidente della regione è intervenuto in aula nella seduta dell'8 maggio. Respingendo le critiche dell'opposizione, il capo dell'esecutivo ha riaffermato la ferma volontà di portare avanti l'accordo stabilito a seguito dell'abrogazione della legge numero 70 del 1996 sulla caccia, con uno specifico emendamento al testo della legge finanziaria approvata venerdì scorso. L'iter concordato prevede il superamento del referendum sulla caccia e l'adozione di una nuova legge che disciplini la materia contemperando le diverse sensibilità sul tema presenti nella società. Anche il presidente del Consiglio regionale ha ribadito l'impegno sui tempi di approvazione della nuova legge.